Mangiatori di nascosto Gli adelofagi, dal greco adelos phageis, che significa mangiatori di nascosto, erano gli appartenenti di una setta cristiana del secolo III, che rifiutavano di mangiare in presenza di altri. Come è possibile una tale aberrazione del messaggio cristiano? Commento Nessuna aberrazione, ma interpretazione del messaggio adeguata all'evoluzione degli adelofagi.